Perfetti sconosciuti, si sottolinea veramente poi il non conoscere le persone che si accantano, però una battuta che ha fatto straordinaria nella conferenza Samp è quello che mi raccomando è un gioco da non ripetere a casa. Come si vede delle volte nei programmi dove ci sono gli stuntman che fanno dei salti incredibili e c'è scritto che è una cosa fatta da professionisti, non rifatelo a casa. È un monito ad usare il cellulare in maniera forse meno spregiudicata di quanto soprattutto i più giovani stanno facendo in questo periodo. C'è ovviamente troppa di quello che è anche la nostra vita privata in quello scatolino. La vita privata è giusto che ci sia, il film affronta una tematica ancora più profonda, è quella della vita segreta, di quella inconfessabile che prima stava nei nostri diari di scuola o nelle lettere che mandavamo, adesso sta tutta su un dispositivo tecnologico. Io non dico che questo sia un bene o un male, dico solo che questo film è una fotografia abbastanza spietata e lucida di quello che stiamo facendo in questo momento. Grazie. Prego. Grazie.